Sarà la pista spagnola di Valencia a chiudere domenica il campionato del mondo della MotoGP e lo farà con una gara triste, un fine settimana dedicato alla memoria di Marco Simoncelli. Valentino Rossi e gli altri piloti cercheranno di ricordare al meglio l'amico, il compagno, il rivale scomparso in occasione del Gran Premio della Malesia sulla pista di Sepanga. Terminato il Mondiale, l'ultima uscita agonistica dell'anno per Valentino Rossi e alcuni piloti della MotoGP sarà il Rally di Monza, in programma sulla pista Brianzola il prossimo 27 novembre. È la manifestazione di chiusura della stagione agonistica e quest'anno sarà dedicata a Marco Simoncelli, che all'invito di Monza fino allo scorso anno aveva risposto con entusiasmo, cercando di destreggiarsi al volante di una quattro ruote nel tentativo di accendere anche in questo settore una sana rivalità con il suo amico, rivale di sempre, Valentino Rossi. Quest'anno anche a Monza Marco Simoncelli avrebbe mostrato un netto miglioramento nelle prestazioni, si sarebbe presentato al volante di una WRC proprio come quella affidata a Valentino Rossi. E la battaglia sarebbe stata a tutto campo, come il divertimento che ne sarebbe derivato. Purtroppo non sarà così, ma Valentino Rossi, Dindo Capello e Sebastian Loeb correranno il Monza Rally Show 2011 con il ricordo di Super Sitch nella mente e nel cuore. Purtroppo non sarà così, ma Valentino Rossi.